Manca soltanto un misergalà. Non sono riuscito a capire cosa stavi facendo. Possiamo riprendere dall'inizio. Tadek sta andando a prendere il nuovo arrivo. Cosa? Abbiamo un nuovo arrivo? Il quartetto. È per questo che mi avete invitato. No, ti abbiamo invitata perché tu dai un senso nuovo alla parola eleganza. Io non cazzerò in nessun quartetto. Con Maggie Smith Quartet. Questa sera alle 20.55.